Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Garcini. In A1 in direzione Bologna, code tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il vivo con la variante di Valico Bacchieraia. Sempre in direzione Bologna, tratto chiuso per lavori tra Aglio e Roncovilaccio fino al 28 febbraio. In direzione Roma, due chilometri di coda per un incidente tra Valdarno e Arezzo. In A11 in direzione Firenze, code tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e due chilometri di coda tra Firenze Nord e Peretola. In Fipili, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandici in direzione Firenze. Sempre verso Firenze, rallentamenti tra la diramazione per Pisa e Montopoli-Valdarno e incidente tra Firenze Scandici e Firenze Viadotta all'Indiano. Per la viabilità cittadina a Firenze, via Santa Marta resterà chiusa fino al 16 maggio da via Ernesto Rossi a via della Pietra. Ed è tutto, buon viaggio!